La stagione autunnale di espansione TV entra nel vivo. Dal lunedì prossimo in palinsesto le trasmissioni che hanno contribuito negli ultimi anni a consolidare i successi di ascolto dell'emittente, oggi stabilmente sul podio Auditel delle televisioni locali lombarde. Il nostro obiettivo, sottolinea Alberto Stefani, amministratore unico, è confermare questa posizione e, se possibile, accrescere il numero dei telespettatori. Fare televisione oggi, soprattutto a livello territoriale, è molto difficile. La concorrenza è serrata e l'offerta sempre più ampia. La strategia di ETV è indirizzata alla fidelizzazione del pubblico, anche per questo, dice Stefani, puntiamo su format che coniugano informazione e partecipazione diretta di chi è sintonizzato sul nostro canale. Lunedì, dunque, si riparte e nell'ordine si comincia con Angoli, il preserale in onda tutti i giorni alle 19 prima del telegiornale e condotto da Dolores Longhi. La formula non cambia, dice Carlo Nicolella, direttore dei programmi di ETV. Tentiamo di dare voce a tutti coloro i quali hanno una storia da raccontare, siano essi imprenditori, operatori sociali, artisti, scrittori, professionisti. Sempre lunedì, alle 21.20, si riaccendono le luci anche nello studio del Dario Sauro, giunto quest'anno alla decima edizione. L'intervista all'ospite in studio, condotta dal cronista del Corriere di Como, Dario Campione, sarà come sempre intervallata dagli interventi del pubblico, che potrà chiamare in diretta. Una formula per noi vincente, dice il direttore della redazione giornalistica di ETV, Mario Rapisarda. Credo anche l'unica possibile, per non annegare, nel grande mare dei talk politici. Il vero protagonista sui nostri schermi, aggiunge, è sempre il cittadino telespettatore. In questo senso, sono davvero curioso di capire quale sia stato l'effetto del ribaltone governativo di quest'ultima pazza estate. Martedì 17, alle 20, ricominciano anche gli appuntamenti settimanali con ETG più sindaco. Interviste di mezz'ora, sempre in diretta e sempre con i telefoni aperti, al primo cittadino di Como, Mario Landrescina. Il timone è affidato al giornalista Andrea Bambace, che tornerà da venerdì 27 settembre alle 21.20, a guidare anche Nessun Dorma, dibattito settimanale a più voci, con la presenza del pubblico in studio. Infine, da martedì 1 ottobre alle 21.20, ricominciano le serate sul calcio nazionale. Furio Fedele, uno dei volti più noti del giornalismo sportivo italiano, condurrà il Barbiere, retrasmissione nella quale sono sempre più protagonisti i tifosi, sia quelli che intervengono in diretta al telefono, sia quelli raggiunti dalle telecamere nei vari fan club in regione.